A proposito di chi vive la città, il pavè a Milano si può togliere? Il pavè a Milano? Spero di no, può essere scomodo, può essere costoso da mantenere, però è la storia di Milano. Quindi se la storia ha un costo, questo costo va affrontato per quello che mi riguarda. Se dovessi togliere qualcosa, toglierei piste ciclabili pericolose come quelle in Buenos Aires o riallargherei la carreggiata in Viale Legioni Romane che crea chilometri di traffico e inquinamento su inquinamento. Io il pavè lo terrei esattamente di dove è.